Il piccolo libro delle streghe. Le streghe belle. Le streghe belle sono pericolosissime. Vivono in mezzo alla gente, abitano in case luminose e fanno la spesa al supermercato come tutti. Nessuno direbbe che dietro un volto sorridente dagli occhi dolci si cieli una feroce strega pronta a distruggere l'intera umanità. Queste creature utilizzano la loro eccezionale bellezza per ammaliare le persone e farle cadere ai loro piedi. Le streghe belle si sentono superiori a tutti e la loro più grande fissazione e riuscire a comandare l'intero pianeta. Sono esperte nello stregare la gente utilizzando arti magiche molto raffinate. Sanno preparare profumi ipnotizzanti che indossano loro stesse oppure possono esibirsi in antichi e graziosi balli incantando chi le guarda. Le streghe belle fanno innamorare chi sta loro vicino mettendo un seme invisibile nei cuori dei poveri malcapitati. Per smascherare queste orribili creature basterà fare qualche critica sul loro aspetto. Allora le streghe belle andranno su tutte le furie, si metteranno a orlare e dai loro occhi usciranno fiamme per incenerire chi ha osato offenderli. E a quel punto si mostreranno in tutto il loro terrorizzante, orribile aspetto.